Più di cento nuove assunzioni nelle scuole piemontesi tra bidelli e personale amministrativo le prevede un accordo tra i sindacati e l'ufficio scolastico regionale ma in Piemonte la metà dei posti mancanti rimarrà comunque scoperta scopriamo perché con Antonio Sgobba 134 nuovi bidelli e segretari amministrativi nelle scuole del Piemonte è il risultato di un accordo tra i sindacati e il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale si partiva da posizioni distanti, i posti mancanti erano circa il doppio, 271 CGL e Cislewille erano arrivati a minacciare lo sciopero generale, ora revocato Certo non raggiungiamo e non soddissiamo tutto il fabbisogno però insomma mi pare che sia uno sforzo importante riguarderanno tutti i profili professionali ATA quindi sia diciamo le segreterie scolastiche, gli assistenti amministrativi e tecnici sia collaboratori scolastici, cioè i cosiddetti bidelli In totale l'organico conta circa 15.000 lavoratori tra personale amministrativo e ausiliari i posti in più saranno in deroga, si aggiungono cioè ai numeri fissati dal ministero l'accordo ha convinto le organizzazioni sindacali È un fatto sicuramente positivo perché il Piemonte è una regione che ha delle specificità ma è anche una regione dove è più alto il numero delle deroghe Questo risultato dà una boccata d'aria alle scuole, una boccata d'aria ai dirigenti, una boccata d'aria agli alunni che hanno bisogno di avere certezza nei loro bisogni essenziali Alle scuole rimarrà comunque da affrontare il nodo dell'altra metà di posti ancora scoperti Quelle che sono le ulteriori carenze cercheremo di studiarle, di aiutare le scuole nell'organizzazione del lavoro e nel cercare di coprire i buchi che mancano Promuovere il lavoro